Quando spiro tempini, con le lunghe punte dei baffetti insegate come due capi di spago, lì, pronti per passarne il foro praticato da una lesina, facendo leva di continuo con le dita sui polsini inamidati per tirarsi di fuor delle maniche della giacca. Timido e smizzo, mio pe compito, chiese debitamente alla maggiore delle quattro sorelle Margheri, la mano di Lucia la migliore, e se ne andò con quelle piote ben calzate ma fuori di squadra indolenzite, inchinandosi più e più volte di seguito, tanto Serafina quanto Carlotta, quanto Zoe, quanto Educcia stessa, rimasero per un pezzo quasi intronate. Ormai non si aspettavano più che a qualcuno potesse venire in mente di chiedere la mano d'una di loro, dopo essersi rassegnate a tante gravi sciagure, alla rovina improvvisa e alla conseguente morte per crepacuore del padre, e poi a quella della madre, e quindi a dover trarre profitto dei buoni studi compiuti per arritire squisitamente la loro educazione signorile, si erano anche rassegnate a rimanere zitelle. Veramente certe loro amiche carissime non volevano credere a quest'ultima rassegnazione, perché pareva loro che le Margheri da un pezzo si fossero come impuntate. Serafina a trent'anni, Carlotta a ventinove, Zoe a ventisette, Ida a venticinque. Il tempo passava, cominciava a urtarle un po' sgarbatamente alle spalle. In vano, lì, ferme ostinatamente sulla triste soglia di quegli anni oltrepassati. Che stavano ad aspettare? E via, qualcuno che le inducesse finalmente a muoversene, ad andare innanzi non più sole. Quando queste cari amiche sentivano, dalle tre sorelle maggiori, chiamar per nome l'ultima, si confessavano che faceva loro l'effetto che la chiamassero da lontano, da molto lontano, i Duccia. Perché, a conti fatti, Ida, via, doveva aver perlomeno ventotto anni. Intanto, aiutate da amici autorevoli, rimasti fedeli dopo la rovina, le Margheri erano riuscite col lavoro, cioè impartendo lezioni particolari di lingue straniere, inglese e francese, di pittura ad acquarello, d'arpa e di miniatura, a tenersù intatta la casa, che attestava con l'eleganza sobria e semplice della mobilia e della tapezzeria, la giatezza in cui erano nate e di cui avevano goduto. E andavano ancora a concerti e a radunanze, accolte dovunque con molta deferenza e con simpatia per il coraggio di cui davano prova, per il garbo disinvolto con cui portavano gli abiti non più sopraffini, per le maniere gentili e dolcissime, e anche per le fattezze graziose e tuttora piacevoli. Erano magroline, forse un po' troppo, «Spighite!» dicevano i maligni, e di alta statura tutte e quattro, Ida e Serafina bionde, Carlotta e Zoe brune. Certamente era una bella soddisfazione per loro poter bastare a se stesse col proprio lavoro. Avrebbero potuto morire di fame e non ne morivano. Si procuravano da mangiare, da vestire discretamente, da pagar la pigione. E quelle cari amiche, che avevano marito e le altre che avevano il fidanzato, o facevano all'amore? Si congratulavano tanto con esse di questo bel fatto, e quelle promettevano che avrebbero mandato presto la piccola Titti o il piccolo Coco a studiare l'arpa o la pittura ad acquarello. E le altre, per miracolo, nelle fusioni d'affetto ed ammirazione, non promettevano che si sarebbero affrettate a mettere al mondo un figliuolo o una figliuola per avere anch'esse il piacere di aiutare le coraggiose amiche a provvedersi da vestire discretamente, da pagar la pigione e non morire di fame. Ma ecco intanto questo signor Tempini, piovuto dal cielo. Ci volle un bel po', prima che le quattro sorelle rinvenissero dallo stupore. Conoscevano il Tempini soltanto da pochi mesi. Lo avevano veduto, sia no, una dozzina di volte nei salotti che si frequentavano, né pareva loro che li avesse mai manifestato in alcun modo, timido com'era e impensierito sempre di quei piedi troppo grossi, ben calzati e indolenziti d'aver qualche mira su di esse. Quasi quasi, dopo tanta vana e smaniosa attesa, quella richiesta così improvvisa e insperata le contrariava, insospettiva. Che considerazioni aveva potuto far costui nel venirsi a cacciare così a por leggero, con quell'aria smarrita, tra quattro ragazze sole, senza dote, senza stato se non precario, o almeno molto incerto, unite fra loro, legate inseparabilmente dall'aiuto che erano costrette a prestarsi a vicenda. Che sarà immaginato? Come sarà introdotto? Che aveva fatto Iduccia per indurlo? Ma niente, vi giuro, nientissimo, badava a protestare Iduccia infocata in volto. Le sorelle dapprima si mostrarono incredule, tanto che Iduccia si stizzì e dichiarò finanche che non voleva saperne perché l'era antipatico ecco, antipaticissimo quel, come si chiamava, Tempini. Via e via, antipatico, perché? Ma no, giovane serio, disse Serafina. Giovane colto, disse Carlotta, laureato in lezze, disse Zoè. E Serafina giunse, segretario del ministro di grazia e giustizia. E Carlotta liberò docente di, di, non ricordo bene, di che cosa, all'università di Roma. e lo conoscevano appena le sorelle Margheri. Zoè Financo si ricordò che il Tempini aveva tenuto una volta una conferenza al circolo giuridico. Sì, una conferenza con proiezioni in cui si mostravano le impronte digitali dei delinquenti. Ricordava benissimo, anzi, la conferenza era intitolata segnalamenti dactiloscopici con il rilievo delle impronte digitali. Del resto, Serafina e Carlotta avrebbero domandato maggiori ragguagli, si sarebbero consigliate con gli amici autorevoli e non perché debitassero minimamente del Tempini, ma per fare le cose proprio a modo. Tre giorni dopo, Spiro Tempini fu accolto in casa e quindi presentato nelle radunanze quale promesso sposo di Duccia. Di Duccia soltanto. Pareva veramente il promesso sposo di tutte e quattro le Margheri, anzi, più che di Duccia, delle altre tre. Perché Duccia, vedendo così naturalmente partecipi le sorelle della soddisfazione, della gioia che avrebbero dovuto essere sue principalmente, si rigidiva in un contegno piuttosto riservato e faceva peggio. perché quelle, supponendo che la non riuscisse ancora a vincere la prima, in giusta antipatia per il Tempini, ritenevano che fosse loro dovere compensarlo di quella freddezza, opprimendolo di cure d'amorevolezze, così che egli non se ne accorgesse. Spiro, il fazzoletto da collo, avvolgiti bene, mi raccomando. Hai la voce un po' rauca, Spiro. Hai le mani troppo calde, perché? Poi ciascuna gli aveva chiesto un piccolo sacrifizio. Zoe, per carità, Spiro, non ti insegare più codesti baffetti. Carlotta, se fossi in te, Spiro, me li lascerai un po' più lunghetti i capelli. Non ti pare? Non ti pare, Iduccia, che pettinati così a spazzola gli stieno male? Meglio con la scriminatura da un lato, alla Guglielmo. E Serafina, Iduccia dovrebbe farti smettere con questi occhiali a staffa, la notaio, Dio mio, o da professore tedesco. Meglio le lenti, Spiro. Un paio di lenti e senza laccio, mi raccomando. Un paio di lenti e senza laccio, mi raccomando, a Pinsnets. Alle piote nessun accenno, erano irrimediabili. In ben di un mese, Spiro Tempini diventò un altro. I maligni però lo commiseravano a torto, perché egli, cresciuto sempre solo, senza famiglia, senza cure. Era felicissimo tra quelle quattro sorelle tanto buone e intelligenti e animose che lo vezzeggiavano e gli stavano sempre attorno a domandargli ora una notizia, ora un consiglio, ora un servizietto. Spiro, chi è, Bacone? Per piacere, Spiro, abbottonami questo guanto. Che caldo! Ti cercherebbe, Spiro, di portarmi questa mantellina? Oh, di Spiro, sapresti regolarmi questo orologino? Va sempre indietro. Riduccia, zitta, sospettare delle sorelle questo no, neanche per ombra, ma certo cominciava ad essere un po' stufa di tutto quello sfoggio di civetteria senza malizia. Avrebbero dovuto comprenderlo le sorelle, che diamine, a vedersi che il Tempini, essendo per natura così timido e servizievole, e standogli esse così d'attorno senza requie, trepittime, la trascurava per badare a loro. Non gli lasciavano più né tempo né modo, non che d'accostarsi a lei, ma neanche di respirare. Spiro di qua, spiro di là. Avrebbe dovuto avere quattro braccia quel poveretto per offrirne uno a ciascuna e altre tante mani per pigliarsele tutte e quattro. Le seccava poi maggiormente che esse con le loro manierine quasi quasi lo costringevano ogni volta a portare quattro regali invece di uno, ma sì, gli facevano tanta festa ogni volta che egli, per paura che rimanessero poi deluse, si guardava bene dal recarne qualcuno particolare a lei che era la fidanzata. Non parlava Iduccia, ma certe bici pigliava a quello spettacolo di vezzi e di premure. Così, santo Dio, egli avrebbe potuto chiedere senz'altro la mano di Zoe o di Carlotta o anche di Serafina perché aveva chiesto la sua. Iduccia aspettava dunque con molta impazienza quantunque senza il minimo entusiasmo il giorno delle nozze sperando bene che in tal giorno almeno una certa distinzione egli finalmente avrebbe dovuto farla. Avvenne un contrattempo spiacevolissimo. Per fare il viaggio di nozze Spiro Tempini aveva sollecitato al Ministero di Grazia e Giustizia un lavoro straordinario. Nonostante l'amore e il grande da fare che gli davano le tre future cognatine lo aveva condotto a termine con quella minuziosa diligenza con quello zelo scrupoloso che soleva mettere in tutti i lavori d'ufficio e negli studi pregiatissimi di scienza positiva contava che questo lavoro gli fosse retribuito pochi giorni prima di quello fissato per le nozze ma all'ultimo momento quando già tutto era disposto per la celebrazione del matrimonio stampate le partecipazioni spiccati gli inviti il decreto ministeriale era stato respinto dalla Corte dei Conti per vizio di forma. Spiro Tempini parve lì per cadere fulminato da una congestione cerebrale. Lui di solito così timido così ossequiente così misurato nelle espressioni si lasciò scappare parole di fuoco contro la burocrazia contro l'amministrazione dello Stato anche contro il ministro contro tutto il governo che gli mandava a monte il viaggio di nozze non per il viaggio di nozze in se stesso ma perché si vedeva costretto a venire meno a un riguardo di delicatezza verso le tre cognatine nubili. Si era stabilito anzi non si era messo neanche in discussione che gli avrebbe fatto casa comune con esse sì ma tanto Dio almeno la prima notte non avrebbe voluto rimanere lì sotto lo stesso tetto. Si immaginava l'imbarazzo per non dire altro di quelle tre povere ragazze quando andati via tutti gli invitati finita la festa lui ed uccia sarebbe stato un momento terribile uno strappo a tutte le convenienze un angoscioso tormento di tutta la notte come l'avrebbero passata quelle tre povere anime con la sorellina divisa da loro per la prima volta di là in un'altra camera con lui. In vano Spiro Tempini per rimediarvi pregò scongiurò Iduccia che si contentasse di un viaggetto di pochi giorni purché fosse di una gitarella a Frascati o ad Albano Iduccia forse perché non capiva ed egli non osò di farlo anzitempo capace Iduccia non volle saperne le parve un ripiego meschino e umiliante la la meglio rimanere a casa il Tempini diede un'ingollatina e arrischiò dicevo per per le tue sorelle ecco ma la spugina che si teneva già da un bel pezzo gli piantò tanto d'occhi in faccia e gli domandò perché che c'entrano le mie sorelle ancora e chissà che altro avrebbe aggiunto Iduccia nella stizza se non fosse stata una ragazza per bene che doveva figurare di non capire nulla fino all'ultimo momento fu però una bella festa non molto vivace perché si sa l'idea delle nozze richiama alla mente di chi abbia un po' di senno e di coscienza non lievi doveri e responsabilità ma degna tuttavia ed è corosa soprattutto per la qualità degli invitati Spiro Tempini che teneva più alla libera docenza che al posto di segretario al ministero di grazia e giustizia perché credeva di contare infine qualche cosa fuori dell'ufficio invitò pochi colleghi e molti professori d'università i quali ebbero la degnazione di parlare animatamente di studi antropologici e psicofisiologici e di sociologia ed etnografia e di statistica poi il momento terribile venne e fu purtroppo quale il Tempini lo aveva preveduto quantunque volessero sembrar disinvolte le tre sorelle e anche i duccia stessa vibravano dalla commozione avevano trattato finora con la massima confidenza il Tempini ma quella sera che impaccio che senso nel vederlo rimanere in casa con loro lui solo uomo già nel pieno diritto di entrare in una intimità che per quanto timida in quei primi istanti imbarazzata avventava profondamente turbate con gli occhi lampeggianti le tre sorelle guardavano la sposa e le leggevano negli occhi la stessa ambascia che strizzava le loro animucce non del tutto incognare certo ma perciò anzi più trepidanti i duccia si staccava da loro cominciava da quella sera ad appartenere più a quell'estraneo che ad esse era una violenza che tanto più le turbava quanto più delicate erano le maniere con cui si manifestava finora e poi poi i duccia lei sola tra breve avrebbe saputo le si accostarono sorridendo nervosamente per baciarla subito il sorriso si cangiò in pianto due Serafina e Carlotta scapparono via nella loro camera senza neanche volgersi a guardare il cognato Zoe fu più coraggiosa gli mostrò gli occhi rossi di pianto e alzando il pugno in cui teneva il fazzoletto gli disse tra due singhiozzi cattivo ma era destinato che i duccia non dovesse godere della distinzione che il tempini finalmente aveva dovuto fare tra lei e le sorelle la pagò e come questa distinzione la povera iduccia può dirsi che cominciò a morire fin dalla mattina dopo il tempini volle dare ad intendere tanto a lei quanto alle sorelle che non era propriamente una malattia disturbi diceva alle cognatine afflitto ma non impensierito e alla moglie diceva troppo presto iduccia mia troppo presto basta pazienza ma iduccia soffriva tanto troppo soffriva non aveva un momento solo di requie nausee capogiri e una prostrazione così grave di tutte le membre che dopo il terzo mese non poté più reggersi in piedi abbandonata su una poltrona con gli occhi chiusi senza più forza neanche di sollevare un dito udiva intanto di là nella saletta da pranzo conversare lietamente le tre sorelle col marito e si struggeva dall'invidia ah che invidia rabbiosa le sorgeva man mano per quelle tre ragazze che le parevo stentassero dinanzi a lei così sconfitta con tutti i loro movimenti le corse pazze per le stanze quasi una loro vittoria quella da essere rimaste ancora agili e salde nella loro virginità era tanto il dispetto che quasi quasi credeva il suo male provenisse principalmente dal fastidio che se le cagionavano con la loro vista e le loro parole ecco ridevano suonavano l'arpa si paravano come se nulla fosse senza alcun pensiero per lei che stava tanto male ma non era giusto non era naturale lei aveva un marito esse non l'avevano bisognava dunque che le ne piangesse pure le conseguenze Spiro del resto le tranquillava diceva loro che non c'era da darsene pensiero la lieve afflizione che potevano sentire per il malessere di lei era poi bilanciata dalla gioia ad aver presto un nipotino una nipotina ed era tale questa gioia che si stimavano fino anche ingiusti talvolta i lamenti e i sospiri di lei ma in certi giorni l'invidia di Duccia nel vederle tra i sorelle come prima più di prima attorno al marito tre pecette addirittura si inveleniva fino a diventare vera e propria gelosia poi si calmava si pentiva dei cattivi pensieri diceva a se stessa che era giusto infine che non potendo lei badassero almeno loro a spiro e forse chissà ci avrebbero badato sempre loro tutte e tre vestite di nero perché lei sarebbe morta si si lo sentiva ma era sicurissima quel lesserino che man mano le si maturava in grembo le succhiava filo a filo la vita che supplizio lento e smanioso se la sentiva proprio tirare la vita a filo a filo dal cuore sarebbe morta le tre sorelle avrebbero fatto loro da madre alla sua creaturina se femmina l'avrebbero chiamata iduccia come lei poi passando gli anni nessuna delle tre avrebbe più pensato a lei perché avrebbero avuto un'altra iduccia loro ma il marito per lui non poteva essere la stessa cosa quella bambina egli forse quale delle tre avrebbe scelto zoe carlotta serafina che orrore ma perché ci pensava tutte e tre insieme sì avrebbero potuto far da madre alla sua creaturina ma se egli ne sceglieva una zoe per esempio ecco zoe no non sarebbe stata una buona madre perché avrebbe avuto da attendere ad altri figlioli ai suoi e alla piccina orfana avrebbero allora badato con più amore carlotta e serafina quelle cioè che egli non avrebbe scelto ecco dunque se lo faceva per il bene della sua piccina spiro non avrebbe dovuto sceglierne alcuna non poteva forse rimanere lì in casa come un fratello glielo volle domandare iduccia pochi giorni prima del parto confessandogli la gran paura che aveva di morire e i tristi pensieri che le avevano straziata durante tutti quei mesi d'agonia spiro le diede sulla voce da prima si ribellò ma poi cedendo alle insistenze di lei che era un po' rili via come quel timore dovette giurare sei contenta ora contenta tre giorni dopo iduccia morì ma potevano mai pensare sul serio le tre sorelle superstiti di prendere il posto della sorellina morta che aveva lasciato un così gran vuoto nel loro cuore e nella loro casa come sospettarlo ma nessuna delle tre ecco faceva male Zoè anzi a mostrare troppo il compianto e la tenerezza per la povera piccina orfana serafina e carlotta più riservate più chiuse quasi irrigidite nel loro cordoglio la richiamavano Zoè perché domandava Zoè dopo aver cercato in vano di leggere negli occhi delle sorelle la ragione di quel richiamo lasciala stare le diceva freddamente carlotta serafina poi a quattro occhi le consigliava di frenare un po' ecco quelle troppo vivace fusioni d'affetto per la bambina ma perché tornava a domandare Zoè stordita quella povera cosuccia nostra va bene ma in anzi a lui aspiro sì frenati potrebbe pareggi che tu che cosa capirai la nostra condizione adesso è un po' un po' difficile ecco finché c'era Iduccia ah già Zoè capiva finché c'era Iduccia Spiro era come un fratello ma ora che Iduccia non c'era più esserano tre ragazze sole costrette per via di quella piccina a convivere col cognato vedovo e dobbiamo farlo per Iduccia nostra concludeva Serafina con un profondo sospiro poco dopo però Zoè ripensandoci meglio domandava a se stessa che cosa dobbiamo fare per Iduccia nostra poche carezze alla piccina e perché perché Spiro vedendo che io gliene faccio troppe potrebbe supporre oddio com'è potuta venire in mente a Serafina una tale idea io così tutte e tre ora si vigilavano a vicenda quando Spiro era in casa e anche quando non c'era e questa vigilanza puntigliosa e il rigido contegno scioglievano a mano a mano e facevano accadere tutti i legami di intimità che saranno prima annodati fraternamente tra esse e il cognato questi notò presto la freddezza ma suppose in principio che dipendesse dal cordoglio per la recente sciagura poi cominciò ad avvertire negli sguardi nelle parole in tutte le maniere delle tre cognatine un certo ritegno quasi sospettoso come una mutrea impacciata che distornava la confidenza perché non intendevano più trattarlo da fratello il gelo cresceva di giorno in giorno e anche Spiro allora si vide costretto a frenarsi a ritirarsi un giorno gli cascarono le lenti dal naso e invece di comprarsene un altro paio inforcò gli occhiali a staffa già smessi per far piacere a Serafina la prima volta che gli toccò ad andare dal barbiere gli disse che voleva smettere la pettinatura con la divisa da un lato adottata per consiglio di Carlotta e si fece tagliare i capelli a spazzola come prima non riprese a insegarsi i baffi per non far supporre che da vedovo pensasse ancora ad aver cura della propria persona quantunque Zoè però gli avesse detto che i baffi insegati gli stavano male ma poi notando che Serafina e Carlotta a tavola lanciavano qualche occhiata obliqua a quei baffi e poi si guardavano tra loro temendo che se potessero sospettare che gli intendesse usare qualche particolarità a Zoè tornò anche a insegarsi i baffi come un tempo così si ritrasse dall'intimità anche con la figura tante cure pensava tante amorevolezze prima e ora ma in che aveva mancato era forse lui cagione se i duccia era morta era stata una sciagura egli la sentiva come loro più di loro non avrebbe dovuto anzi affratellarli di più il dolore comune desideravano forse le sue cognate che si staccasse da loro e facesse casa da sé ma egli rimanendo aveva creduto di far loro piacere le aiutava e non poco provvedeva lui quasi del tutto ormai al mantenimento della casa e poi c'era la bambina la piccola iduccia non l'aveva egli affidata alle loro cure ma ecco notava intanto con grandissimo dolore che anche la piccina era trattata con freddezza se non proprio trascurata spiro tempini non sapeva più che pensare prese il partito di trattenersi quanto più poteva fuori di casa per pesare il meno possibile in famiglia da tanti segni gli parvi di dover argomentare che la sua presenza dava ombra e impicciava ma il gelo crebbe ancor di più ora Serafina diceva a Carlotta vedi non sta più in casa il signore quel poco che ci sta guardingo impacciato chissà che cova ah povere iduccia nostra Carlotta si stringeva nelle spalle che ci possiamo far noi eh già incalzava Serafina vorrei sapere che cosa pretenderebbe da noi con quella freddezza dovremmo forse buttargli le braccia al collo per trattenerlo dico la verità non me lo sarei mai aspettato Carlotta abbassava gli occhi sospirava pareva tanto buono ed ecco Zoè parlate di spiro uomini e basta tutti gli stessi sono appena sei mesi e già altro sospiro di Carlotta sospirava anche Serafina e aggiungeva mi tormenta il pensiero di quella povera creaturina e Zoè è chiaro che a lui non basta esser trattato come possiamo trattarlo noi e Carlotta di nuovo con gli occhi bassi nella condizione nostra pensate intanto pensate riprendeva Serafina la nostra piccola iduccia in mano a un'estranea a una matrigna le tre sorelle fremevano a questo pensiero si sentivano proprio offendere la schiena da certi brividi che parevano rasoiate a tradimento ma no via un sacrificio era necessario per amore della bambina necessità dura necessità ma quale delle tre doveva sacrificarsi Serafina pensava tocca a me io sono la maggiore ormai qui non si tratta di fare all'amore più che una moglie per sé egli deve scegliere una madre per la bambina io sono la maggiore dunque la più adatta scegliendo me dimostrerà che non ha voluto far torto alla memoria di Duccia siamo quasi coetanei ho solamente sei mesi più di lui tocca a me pensava invece Zoe sono la minore la più vicina a Duccia sant'anima egli allora aveva scelto l'ultima ora l'ultima sono io tocca dunque a me senza alcun dubbio se si affaccia anche a lui la necessità di questo sacrificio sceglierà me Carlotta poi dal canto suo non credeva ad essere meno indicata delle altre due pensava che Serafina era troppo attempatella e che sposando Zoe Spiro avrebbe dimostrato di vadare più a sé che alla piccina mi pareva indubitabile dunque che avrebbe scelto lei piuttosto che stava nel mezzo come la virtù ma Spiro che pensava Spiro egli aveva giurato è vero che non sempre chi vive può serbar fede al giuramento fatto ad una morta la vita ha certe difficoltà da cui chi muore si scioglie e chi si scioglie non può tener legato chi rimane in vita se non che quando per la prima volta Spiro Tempini si era accostato improvvisamente alle quattro Margheri la scelta aveva potuto farla lui ora per stare in pace capiva che avrebbero dovuto invece scegliere loro fine grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.